Abbiamo scelto sette associazioni, le chiamiamo Cooperativa Sociale Gruppo Amicizia, Cooperativa Sociale Voce del Silenzio, Guilin Marese, Croce Rossa Posto Assizio, Associazione Amici di Rossella, Lyon Plus Posto Assizio e Fondazione Valduce, quindi aspettiamolo in attesa che arriva di vedere la Fondazione Valduce, se Vittorio vuol dire qualche cosa? Poi lascio la parola a Renato e a Berti per dire due cose. Io parto con queste due righe che mi sono state consegnate dalla famiglia Vignati, Roberto, come sapete ha sempre sostenuto questa iniziativa e che purtroppo due anni fa eravamo compagni di scuola. Anche sotto il punto di vista dell'amicizia e del rapporto umano è stata per me personalmente un'interdita davvero grande. E ci scrive un pensiero. Perché il Valladolid per noi è sempre stata una manifestazione speciale, non solo sotto l'aspetto ciclistico, ma un bel momento da condividere, sapendo poi che il suo obiettivo è sempre stato quello di aiutare e sostenere le nostre associazioni. grazie per averci sempre fatto partecipi di questa bella iniziativa e soprattutto ci leggo il ricordo di Roberto, sempre entusiasta di questa giovanità, la famiglia Vignati. credo che in queste parole ci sia la sostanza e l'essenza intanto di questa collaborazione tra i Comuni, di questa iniziativa che è sempre stata portata avanti, grazie all'iniziativa di Giancando e di suoi collaboratori, che per noi è un momento che dà sostanza a quello che facciamo.